L'annata 2021 rimane in botte sei mesi dopo la vendiglia. Adesso tra un po' lo imbottiglierò perché siamo a fine aprile, quindi l'ultimo quarto di luna lo imbottiglio e poi sta a 40 giorni colicato in bottiglia, poi le bottiglie miglioramasse verticali e comincerò la vendita a novembre, lascio riposare in cantina fino a novembre, fino a ottobre e poi a novembre comincerò la vendita. Il 20 com'è venuto? Il 2021? 20, il 2020. Ah, il 2020 è stata una buona annata, abbastanza equilibrata, anche come clima, come andamento stagionale. C'è sempre quella situazione di dolcezza. La soddisfazione, ha bisogno di tempo, è giovane, sono vini che bisogna bere per vent'anni, però almeno lasciarli lì, lasciarli lì un, due o tre anni sarebbe la cosa minima. Papà adesso lo si sente, può essere piacevole già in bocca, però è giovane, è giovane a bisogno di tempo. Il 2021 che è in botte sarà un'ottima annata, mi piace molto già in botte e quando si sente già in bocca gradevole, quando ha in botte, vuol dire che poi in bottiglia darà il meglio di sé. Di solito è così. Grazie. Grazie.